Oggi ragazzi vi insegno a giocare a Zombicide Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wargames per Passione Oggi un video diverso, oggi un tutorial per imparare a giocare a Zombicide Black Plague La versione fantasy di Zombicide perché? Perché è uno dei miei giochi preferiti e perché a breve, il 5 aprile, uscirà il nuovo Kickstarter a tema Zombicide White Death Quindi lo Zombicide ambientato nell'ambientazione sempre medievale, sempre fantasy In un territorio innevato, ostile, dove fronteggiare orde di zombie che cercano di entrare dentro una fortezza Quindi la terza espansione della versione fantasy di Zombicide mi sembra il caso di insegnarvi a giocare a Zombicide Black Plague Questo con un video veloce, intuitivo e spero facilmente intuibile Iniziamo subito con spiegarvi le componenti che sono presenti all'interno della scatola di Black Plague Che è il primo gioco fantasy, è la prima espansione, quindi è uscita parecchio tempo fa Successivamente è uscita la Green Lord, quella dove introducono gli orchi in zombie Però partiamo semplicemente dalla base, giusto per darvi un'infarinatura generale Eccoci qui quindi a vedere la componentistica del gioco Ovviamente questo è semplicemente un esempio, questo è il tabellone Ci sono molti tiles presenti, una decina di tiles differenti Double fast, quindi con la possibilità di creare mappe personalizzate E comunque seguire una serie di missioni Una decina presenti all'interno del manuale Che seguono un filo conduttore, una storia conduttore Successivamente possiamo vedere segnaletica varia Quindi segnalini anche questi di vario tipo Qui c'è solo un assaggio di tutti i segnalini presenti all'interno della scatola Come potete vedere abbiamo gli spawn degli zombie Delle porte che possono essere sia chiuse che aperte Questa è la versione aperta Mentre questa qui è la versione appunto chiusa Entrambe appunto double fast Ecco come potete vedere, vari tipi di spawn Segnalini uscita E di solito dovrebbe esserci anche il segnalino Generazione eroica Però non è stato inserito perché non so che andranno posizionati in questo punto E cripta Un speciale tipo di stanza Che viene utilizzato in tutte le missioni Dovrebbe essere double fast anche questa Sì C'è neanche un'altra versione Questa è quella gialla C'è anche la cripta viola Gli resti delle cripte sono questi qui Che sono gialle che portano dentro la cripta gialla E viola che portano nella cripta viola Che in questo caso non ci sono Andiamo avanti con le miniature Come potete vedere qui Che fanno, questa qui, anche qui Una bozza di miniature In quanto sono queste le miniature della scatola Ce ne sono molte, molte di più Sono un'ottantina Abbiamo intanto gli zombie camminatori Gli zombie che sono questi Gli zombie corridori E il ciccione Ora Qui invece possiamo vedere Le miniature dei personaggi Sono divisi qui In questo modo Per avere un setting un po' più piacevole Oltre le miniature Ogni miniatura ha questa plancia di plastica E i propri pipiottini Per segnare I propri avanzamenti Le proprie abilità Qui possiamo vedere I livelli Che vanno da 0 a 43 E con il pratico cursore Che all'inizio della partita Deve essere sempre posizionato a 0 In quanto ogni personaggio inizia sempre Con 0 livelli Altra simbologia varia I dadi presenti all'interno della scatola Più abbiamo Equipaggiamento standard Queste carte in grigio Che sono equipaggiamenti Che tutti i personaggi hanno inizio della partita Queste carte in blu Che sono gli equipaggiamenti Che si trovano esclusivamente Nella cripta Come vi dicevo prima E che sono equipaggiamenti particolari Carte molto forti Come possiamo vedere questa La balestra orchesca Che fa molti danni E può essere usata sia in corpo a corpo Che a distanza Dopo vi spiego come legge le statistiche Le carte equipaggiamento Che possono essere trovate Con le azioni di ricerca Vedete qui Balestre Quadrelli E così via Per equipaggiare i vostri personaggi E poi le carte spawn Le carte spawn Per generare i zombie Necromanti Volta per volta Turno per turno Ora vi spiego brevemente Come verranno utilizzate Oltre comunque ai personaggi Di cui vi ho parlato Non vi ho fatto vedere Questi personaggi speciali Che sono personaggi cattivi In questo caso Il necromante Su cui si basa Tutta la lore Di Zombicide Black Plog La piaga nera E l'abominio Lo zombie più forte All'interno del gioco Che potreste incontrare Ma qual è Lo scopo di Zombicide? Lo scopo di Zombicide Non è altro che Utilizzare il vostro gruppo di eroi Il gioco può essere giocato Da uno a sei giocatori E utilizzando il vostro gruppo di eroi Dovrete portare a termine Le varie missioni Che vi si parano davanti Cercando di sfuggire dal dungeon Che vi si genera A seconda della missione E sopravvivere appunto agli zombie Uccidendo i necromanti Se ce ne sono E portando a termine I vari obiettivi presenti Questa cosa È molto importante Nel senso che Le missioni non hanno sempre Un punto di uscita Come potete vedere qui In questo Tiles Ma molte missioni Sono narrative Quindi hanno Degli obiettivi da portare a termine Come trovare specifiche Chiavi o robe del genere Molto importante Nel numero di giocatori È che I personaggi Sono sempre sei Indifferentemente dal numero di giocatori Questo per bilanciare un po' La difficoltà del gioco Che non scala automaticamente Quindi non è possibile Giocare un personaggio E ridurre la difficoltà Certo si può fare Con delle home rules In generale Il gioco è settato Per giocare con sei personaggi Quindi se volete giocare da soli Siete costretti A utilizzare tutto il team Di personaggi Uno alla volta Scegliendo voi Chi attivare Ogni volta in sequenza Allora direi di procedere E spiegarvi un po' Le meccaniche del gioco Di Zombicide In soldoni Partiamo con Spiegarvi in primis Come funzionano i personaggi E come agiscono Sul campo di battaglia Inizio a farvi vedere Come si svolge un turno Partendo dai personaggi Presenti all'interno Di questa missione Quindi qui abbiamo La missione introduttiva Che è già settata La missione specificatamente Dice che bisogna prendere Questo obiettivo blu Per aprire questa porta Come se fosse una chiave Altrimenti non è possibile passare Ha già posizionato Degli zombie base Quindi abbiamo Un camminatore Un ciccione E Un Un corridore Che agiranno E poi vedremo Cosa faranno E Uno di questi due obiettivi È un obiettivo verde L'obiettivo verde Mi serve Come chiave Per aprire Questa porta Che potete vedere qui E successivamente Attiverà questo spawn Qui Non passeranno zombie Fintanto che io Non troverò L'obiettivo verde In uno di questi due segnalini A quel punto Gli zombie Inizieranno a entrare Vedremo dopo come Procediamo Con un turno standard Ma prima Ho intenzione Di farvi vedere Come si leggono i personaggi Per correttezza Andremo a utilizzare Per primo Sanson Qui Il nano Allora Quello che potete vedere È Il posizionamento qua Sono mano sinistra E mano destra Per il personaggio Quindi sono le carte Equipaggiamento Che il personaggio Potrà utilizzare I personaggi Possono usare Fino a due carte Equipaggiamento Contemporaneamente Qui Questo slot È Lo slot Adibito Alle Armature Le armature Servono appunto Per dare un tiro a salvezza E proteggere il personaggio Alcuni personaggi In realtà Tutti i personaggi Hanno questa Dicitura Questi personaggi Possono non utilizzare Delle armature In questo slot Ma utilizzare Delle armi A loro più efficaci In questo caso Sanson può utilizzare Uno scudo Utilizzare uno scudo Vuol dire Che lui potrebbe utilizzare Due armi contemporaneamente E uno scudo Nella terza mano Di conseguenza Rendendolo molto più performante Nella difesa E Contemporaneamente Nell'attacco Personaggi diversi Hanno Abilità differenti E Posizionamenti diversi In uno slot Qui possiamo vedere Han Han Questa suora guerriera E cazzutissima Può mettere un pugnale Che l'aiuta Anche qui Nella fase di combattimento Perché avendo due Armi differenti Ho la possibilità Di mettere uno scudo Diventa molto più aggressiva In quanto il pugnale Potenzia l'arma base E così via Ma vedremo Tutto successivamente Vado a posizionare Un equipaggiamento Base Da Samson Che andiamo a prendere Eccole qui In questo caso Darò un bel martello A Samson Che mi sembra tema E vado a distribuire A tutti gli altri Perfetto Il martello è stato dato a Samson Come si leggono Gli equipaggiamenti Gli equipaggiamenti in Zombicide Si leggono tutti allo stesso modo A prescindere A prescindere dall'edizione Che sia fantasy Che sia futuristico O che sia moderno Abbiamo questa simbologia Le campanelle indicano Se l'arma fa o meno il suono Il suono viene indicato Con questi segnalini qua Ed è molto importante Nelle meccaniche di gioco In quanto indica Dove e quando Gli zombie si muoveranno Nel loro turno Quindi diventa una strategia Molto importante Utilizzando il suono Per spostare gli zombie Dove più si vuole Il primo simbolo Quello con la freccina In questo caso 0 Indica la distanza Con cui si può colpire In questo caso Trattandosi di un martello Distanza 0 Solo corpo a corpo Il secondo Il numero di dadi Che si tira In questo caso 1 Il 4 più È il risultato necessario Sul lancio del singolo dado In questo caso Per quest'arma Per fare una ferita In questo caso 3 Non ho ferito lo zombie È bene specificare Che armi con più dadi Se hanno più risultati In questo caso Se il martello Tirasse due dadi Avrei fatto 5 e 4 Non ucciderei solo uno zombie Perché l'attacco Del martello è 1 Ma vista la forza Del martello Ucciderei Contemporaneamente Due zombie È molto importante Ricordarselo Perché noi Alle nostre prime partite Non lo facevamo E il gioco era difficilissimo Qui Il teschio L'ultimo valore Indica le ferite Che infliggi Le ferite che infliggi Rappresentano quello Che puoi effettivamente Fare di danno Ai modelli avversari Zombicide non mantiene La memoria Delle ferite inflitte Di conseguenza Se volete uccidere Uno zombie Che ha due ferite Dovete fargli Due danni secchi In questo caso Il martello Ha la possibilità Di infliggere Due danni Andiamo quindi A parlare un po' Degli zombie In questo caso Vi spiego L'ultima statistica Del martello È questa Questa statistica Rappresenta La possibilità Di aprire delle porte Infatti C'è indicata la porta Il risultato necessario Col tiro di dado Al 4 più E se questa effettiva azione Provoca o meno rumore Un martello Sfondando la porta Provoca rumore Di conseguenza Andrà inserito In quella casella Un segnalino rumore Per indicare Che gli zombie Potrebbero essere tratti Dall'azione eseguita Questa striscia in alto Rappresenta i livelli Sottostanti del personaggio Nella prima edizione Di Black Plog Non ci sono armi particolari Che sono relegati Tra virgolette All'utilizzo dei livelli Alcune armi Nelle espansioni successive Hanno In questa catena Tra virgolette Degli anelli spezzati Per indicare Che possono essere usate Soltanto a specifici livelli In questo caso Lo ignoriamo I personaggi Utilizzano i livelli Per indicare La difficoltà Della partita Più la partita Va avanti Più loro diventano forti Più gli zombie Che vengono spaurati Saranno difficili Da uccidere In questo caso Si inizia dal livello 0 Il livello 0 È il livello blu Il livello blu Serve appunto Per far capire Che sono proprio I livelli base Gli zombie base Che verranno spawnati I livelli Hanno dei colori Blu, giallo, arancione e rosso Che coincidono Alle abilità Dei personaggi stessi Come potete vedere Abbiamo le abilità blu Gialle e arancione e rosse Nel caso in cui Siete a livello blu Sceglierete O sarete costretti Avrete di base La vostra abilità blu Che quindi avrà Il pipiottino Attivato Perché? Perché voi Semplicemente Avete già Quella abilità Essendo di livello 0 Essendo la vostra Abilità base Le altre Le sbloccherete Andando avanti Durante la partita In poche parole L'abilità già Quando arriverete A livello 7 Inizierete a sbloccare L'abilità gialla Che per tutti Più o meno È più un'azione Che Adesso andremo a vedere Quante azioni abbiamo Durante la partita A livello arancione Avrete due possibili abilità Da andare a scegliere Per specializzarvi E far crescere il personaggio Come volete voi Mentre A livello rosso Otterrete Una delle tre Disponibili È possibile Una volta raggiunto Il livello rosso Andare avanti E rifare Il giro Ripartendo A livello 0 Per prendere Le abilità Che vi mancano E quindi Completare L'albero Delle vostre abilità Diventando Dei personaggi Potentissimi Difficilmente Nelle partite Però si riesce A fare Perché È veramente Una partita Difficile Se siete rimasti Lì fino a quel punto Vuol dire Che vi stanno Massacrando Gli zombie Dall'inizio Alla fine Detto questo Spiegate le carte Spiegati I personaggi Come si leggono E dati Gli equipaggiamenti Base Iniziamo Con un turno Veloce Allora Tocca a Samson Samson Può fare Fino a Tre Samson Può fare Fino a Tre Azioni Durante Il suo turno Le azioni Possono essere Muovere Possono essere Raccogliere Un token E prenderselo E fare Cinque livelli Quindi sulla sua Scheda Oppure Far rumore Posizionare Quindi un segnalino Rumore Nella casella In cui si trova Oppure Spostarsi E fare rumore In un'altra casella Per attirare In futuro Gli zombie Aprire porte Se questa porta Fosse stata chiusa Avrebbe avuto La possibilità Di tirare Il dado Del martello Come abbiamo Visto prima Ottenere almeno Un 4 Come in questo caso E aprire la porta Ma in questo caso Aperta non serve Oppure fare la cosa Più divertente Che si può fare In zombie Andare a menare Gli zombie Che hai di fronte Per fare un po' Di livelli In questo caso Samson Essendo un personaggio Piuttosto forte Si muove Di una casella Sprecando una Delle sue Usando una Delle sue Tre Azioni Disponibili Ricordiamo Tre azioni Disponibili Per tutto il turno Quindi Usandone una Per muoversi E la seconda Per attaccare Riprendiamo il martello Come hai visto prima Il martello E qui Tutto fluo Ok Il martello Tira un dado Al 4 più Per fare danno 5 Il martello Uccide Lo zombie Che viene rimosso Dalla partita E Samson Ottiene Un livello Andando al livello 1 Non è abbastanza Per salire Ma resta lì Ha fatto Un'azione Due azioni E Due azioni E Diciamo che Non vuole fare oltre Si trova in questa posizione Un po' Fastidiosa Possiamo dire così In quanto Si trova davanti a uno spawn Degli zombie Che vi spiegheremo dopo Nella fase degli zombie Come Cosa funziona Cosa serve Andiamo quindi Con An La successiva Andiamo in ordine Dal basso verso l'alto An Che è la suora guerriera Dov'è? Eccola qui Si muove di uno Prende il token Con la seconda azione Quindi ora c'è la possibilità Di aprire questa porta Senza problemi E Con la terza azione Decide di cercare L'azione di cercare È un'azione che si può fare Soltanto all'interno Degli edifici E Serve per aumentare E migliorare il proprio Equivaggiamento Fate attenzione Perché le prove di cercare Possono anche spawnare Degli zombie Cercate Cercateli I vostri Possiamo dire Alloggi Finché effettivamente Spawnate uno zombie Infetto Che vi attacca Perché Come so Un cadavere Che era lì Che si stava scendendo A fare i suoi L'avete risvegliato Prova di cercare Pesca Semplicemente Dal mazzetto rosso Ecco Neanche l'avessi detto Menomale che siamo in diretta Spawnano zombie In questo caso Han non trova nulla Comunque ragazzi Neanche nei tutorial Riescono a non avere sfiga E si posizionano zombie Han ha fatto tre azioni Di conseguenza Ha mosso Preso il token E cercato Risultato Non può attaccare Lo zombie Successivamente Quindi tocca A Baldrick Ok Baldrick 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 è equipaggiato Con una magia Le magie Sono molto forti All'interno del gioco Ma sono degli attacchi A distanza Gli attacchi A distanza Rischiano di Ferire I propri compagni Ferire i propri compagni Vuol dire Semplicemente Che se io Utilizzando Questa magia Che fa Un dado al 4 più Manco Il bersaglio Colpisco Il mio personaggio In un gioco Con la mortalità alta Come zombie Non è mai una buona mossa Ma c'è la possibilità Di farlo Quindi trattandosi Di una demo Essendo qui In goliardia Baldrick decide Di non muoversi E tirare Dentro la stanza Fa uno Fa una ferita Secca a nani Guarda Bravo Baldrick Ottimo lavoro Decidiamo che non fa più niente Lui Non avendo Comunque Armi Da corpo a corpo In questa situazione Si trova completamente inutile Quindi Ha fatto una ferita La sua alleata Cosa facciamo Ci spostiamo di uno E basta Non ho fatto niente Scusate Non volevo Andando da questo lato La prossima azione È di Sylas Sylas decide Anche lui Avendo un'arma a distanza Di provare a tirare Sylas come abilità Di base Ha più un risultato Di dadi a distanza Quindi gli basta fare Un due Se non faccio un altro uno Per uccidere lo zombie Con cinque Scusate Si è girato il dado Con cinque Sylas riesce a colpire Lo zombie Senza ferire La sua alleata Lasciandola libera Di muoversi E con la seconda azione Entra E con la terza Cerca Prendo ancora una carta Eccola qui Scarta questa carta E chiede un punto esperienza Quindi Sylas ottiene in questo turno Due punti esperienza Perché trova delle mele La prossima attivazione Sta a Ellie Ellie Un Ellie Scusate Nelly Ho sbagliato Nelly Utilizza la spada corta Ma in questo caso specifico Non c'è niente da attaccare Di conseguenza Decide di muoversi di uno E aprire la porta La spada Ve la faccio vedere La spada Apre le porte Al 4 più Non riesce Con la sua prima azione Ad aprire la porta Riesce con la seconda Quindi Mette un segnalino rumore Perché la spada Scardina La porta Ma la porta si apre Di conseguenza Può andare oltre Ma ha finito Le sue azioni A questo punto Tocca Al nostro amico Clovis Questa cosa Non so come ho fatto A scordarmela Mi spiace tantissimo Voi dovete sapere Che tutte le volte Che aprite una porta Di un edificio chiuso Quindi non di una strada Se aprite un muro Che va da strada a strada Non succede niente Ma quando aprite Un edificio chiuso I vostri personaggi Non sanno Che zombie Ci potrebbero essere all'interno Di conseguenza Partendo dalla stanza Più lontana Dal personaggio Che ha aperto la porta Bisogna Sponare Una carta mostro Differente Sponare una carta mostro Differente Che fa venire fuori Degli zombie Di conseguenza Tutte le volte Che aprite una porta Potreste trovarvi Un'orda davanti alla faccia Quindi dovete stare Molto molto attenti Ed essere preparati Di solito Non si apre mai Una porta di ultimo turno Perché se dentro Ti trovi un corridore In faccia Sul naso qui Che ti sta mordendo Il culo Io ci penserei due volte Che non procede oltre La realtà In quanto fa un movimento Anzi Fa un movimento E cerca In quanto Vuole equipaggiarsi meglio Trova Trova un altro zombie E questo vi fa capire Perché non dovete mai cercare Alla fine del turno In quanto Spona Uno zombie E Clovis Ha un attacco solo Per cercare Di ucciderlo Se non lo uccide Vedremo cosa succede Lo uccide Quindi Non succede nulla Gli eroi Hanno finito Il proprio turno Gli eroi finiscono Il proprio turno Cosa si deve fare? Si agisce Con gli zombie È il momento Quindi di spiegarvi Come sono strutturati Gli zombie E le varie differenze Tra di loro Gli zombie Hanno delle differenze Interessanti Come abbiamo visto I camminatori Sono più scrausi Basta un attacco E una ferita Per ucciderli I camminatori Sono lenti Fanno un'azione A turno Di conseguenza O muovono E vi raggiungono O sono già nella vostra casella E vi fanno un danno I ciccioni Sono più resistenti Come i camminatori Hanno un'azione Quindi si possono muovere Nella vostra casella Oppure Possono decidere Di farvi danno In entrambi i casi Non possono attaccare E farvi danno In quanto Avendo un'azione sola O possono trovare Sigenere nella vostra casella E colpirvi O meno Entrambi I modelli Fanno due danni Fanno un danno Al personaggio Che viene attaccato L'ultima Tipologia Tra virgolette Di zombie Che non sia Un nemico Forte O eroe È il corridore Il corridore È il personaggio Lo zombie più infido Il corridore Muove di due caselle Ha due azioni In realtà Non muove di due caselle Il corridore Ha due azioni Di conseguenza Può muoversi E attaccare Muoversi E muoversi Oppure se si trova Se si trova già Nella vostra casella Attaccare E attaccare Trovarsi due corridori All'interno Della stanza Equivale a morire Perché Ogni personaggio Ha massimo Tre Ferite Durante tutta la partita Trovarsi due corridori Nella stessa casella Che infliggono Simultaneamente Quattro ferite Equivale A essere Morti I corridori Sono i più infidi E bastardi Stabilito quindi L'ultima differenza Che I camminatori Gli basta Una ferita Per morire I Corridori Anche Basta Una ferita Per morire Ai Grassoni Ciccioni Non basta una ferita Ne servono due Di conseguenza Servono armi Che fanno Due danni In questo caso In tutto il party L'unico personaggio Con un'arma Che fa Due danni È Samson Almeno per adesso Di conseguenza Solo lui Può uccidere un grassone Che ci troviamo Qui Turno Degli zombie Quindi Durante il turno Degli zombie Quello che noi facciamo È attivare Tutti gli zombie Presenti sulla plancia Come prima cosa Quindi Il corridore Fa Due azioni Qui fa Un'azione Le caselle Qui sono indicate Da Gli elementi scenici Sul campo di battaglia Possiamo dire Sulle tiles varie Quindi sono caselle Facendo due azioni Fa Uno E due Questa qui Non avendo Differenziazioni Non avendo tagli È una casella unica Quindi fa Uno E due Con la seconda azione Si dovrebbe trovare Già qua Trovandosi qui Una porta chiusa Si ferma Perché Gli zombie Si muovono Seguendo I personaggi In linea di vista E dopo vi spiego Come è la linea di vista O seguendo il rumore In questo caso Qui è presente Un segnalino rumore Ma è bene ricordarsi Che ogni personaggio Equivale a essere Un rumore Di conseguenza qua Non ci sono Soltanto Un segnalino rumore Ma ci sono Complessivamente Quattro rumori E ce ne sono tre In quest'altra stanza Di conseguenza Tutti questi zombie Cercheranno di andare In questa direzione In questo caso In questo caso Ben specifico Non possono procedere Come detto Perché la porta È chiusa Nel caso in cui La porta sia chiusa Nel caso in cui La porta sia chiusa Non vi è È la possibilità Di procedere E gli zombie Si ammasseranno Tutti davanti Alla porta chiusa Cercando di andare Verso il rumore Mossi gli zombie In questo caso Finiti È il momento Dello spawn Lo spawn È rappresentato Da questi Tassellini Che sono messi Dalla missione In questo caso Si pesca Una carta Per ogni spawn Ne abbiamo uno solo E qui esce Una doppia generazione Nel prossimo spawn Di conseguenza Qui verranno generate Due carte La regola della doppia generazione È un po' complessa Dovreste guiderla Proprio da manuale In linea di massima Quando esce questa carta Andrebbe generata Una seconda carta Nello spawn successivo Avendo qua Soltanto uno spawn Viene generata Una doppia carta Qui Pesco quindi La mia seconda Carta di generazione Ed è Una carta generazione Che rappresenta Un'attivazione extra Per i modelli In gioco Per gli zombie In gioco Come potete vedere Anche queste carte Hanno una differenziazione Per livelli Blu Giallo Arancione Rosso Che va a salire Più i personaggi Sono forti Più gli zombie Aumentano Per bilanciare La difficoltà Del gioco In questo caso Non succede niente Al livello blu Dove ci troviamo noi È da tenere conto Che tutte le volte Che un personaggio Sale di livello Aumenta anche Questo grado Di conseguenza Bisogna salire Tutti Allo stesso livello Nello stesso momento Circa Perché Si va a vedere Soltanto il livello Più alto Della squadra Quindi se un personaggio Sale al livello rosso Mentre ci sono tutti Gli altri personaggi A livello blu Sono cazzi vostri Perché il personaggio A livello blu Prenderà tanti Di quelli schiaffi Vedendosi in faccia Generato Dieci o quindici Zombie alla volta In questo caso Non è successo niente Ma io pescherei Un'altra carta Finchè magari Non genero qualcosa Voi che dite Ma ecco Generiamo un necromante Un necromante È un personaggio speciale È un boss Funziona esattamente Come gli zombie normali Quindi Una ferita È un movimento Ma la particolarità Che quando lui Viene generato Da dove esce lui Si genera Un secondo spawn Il secondo spawn Genera altri zombie Dal turno successivo Che agiranno Nuovamente Di conseguenza Qua ci sono due Spawn di zombie E continueranno A generare sempre di più Il problema vero È che uccidendo Questo necromante Possiamo spegnere Uno spawn Che vogliamo noi Che sia il suo O un altro Quindi in partite Molto più importanti È possibile per esempio Spegnere questo spawn In modo da essere sicuri Di poter arrivare all'uscita A livello 1 Vi è soltanto Una generazione Per un abominio L'abominio Anch'esso È piuttosto lento È È facile Da arginare Da ignorare Ma Ha La particolarità Che Semplicemente Ci vogliono Tre ferite Per ucciderlo E Non esistono All'interno del gioco Modelli Che abbiano Modo di infliggere Tre ferite O almeno Non a livello 1 Samson È l'unico personaggio Che utilizzando Un'arma di livello 2 Infligendo Più un danno In mischia A livello rosso Può ammazzare L'abominio In quel caso L'abominio Non può essere ucciso Bene ragazzi Mi sono accorto Di alcune cose fondamentali Di cui non ho parlato All'interno del video E che vorrei quindi Esporvi adesso Per uccidere L'abominio Non serve Semplicemente Un'arma che fa Tre danni Nel senso L'arma che fa Tre danni Uccide L'abominio Perché ha tre ferite Però in realtà All'interno del gioco Non ci sono armi Che fanno tre danni Come vi ho detto Ma c'è la possibilità Di ucciderlo Con l'abile di drago L'abile di drago È una specie di Molotov fantasy In poche parole Se un giocatore Trova L'abile di drago Nelle carte tesoro E Simultaneamente Anche la torcia Può scartare Sia l'abile di drago Che la torcia Con due azioni differenti Per buttarle Dentro la casella Dove si trova L'abominio E qualunque altro zombie E uccidere Qualsiasi cosa Che si trova All'interno All'istante Non fate tre ferite Le fate tutte Cioè Tutto quello che c'è Viene spazzato via Anche i personaggi Quindi se lanciate L'abile di drago Dove c'è un vostro alleato State sicuro che muore Sicuramente Non può salvarsi Le regole dicono Che qualunque cosa Ci sia nella casella Prende fuoco E viene disintegrato L'abominio Infligge un danno E si muove Di un movimento Come tutti gli altri zombie Ma la particolarità Di questo maledetto mostro È che ti ingabbia In corpo a corpo Di conseguenza Ogni turno Ti infligge danno Non potendo uccidere L'abominio Si è costretti A scappare Scappare Da una zona Di mostri E di zombie È una cosa Molto difficile In quanto Ogni personaggio Che decide Andarsene Durante il suo turno Deve spendere Un'azione extra Per ogni zombie Presente all'interno Della sua area In poche parole Se l'abominio Se l'abominio Vi ingangia In corpo a corpo Voi dovete usare Due azioni Perché una base Del movimento Più una extra Perché c'è l'abominio Per andarmene Questo È la regola base Per allontanarsi Da un corpo a corpo E funziona Su tutti gli zombie Presenti Anche se ci fosse Qua semplicemente Un diabulante E io volessi Allontanarmi Dovrei fare due azioni Per andarmene A prescindere Da quanti alleati Ho in corpo a corpo La particolarità È che se io A livello 1 Soprattutto In cui ho tre azioni Volessi andarmene Da questo combattimento Non ho la possibilità Di farlo Non ho la possibilità Di farlo Perché Il personaggio Dovrebbe spendere Un'azione extra Per ogni zombie Di conseguenza Una per il movimento Due Tre Quattro Il personaggio Avendo solo tre azioni Non può andarsene Si trova quindi costretto A combattere Combattere vuol dire Semplicemente Tirare il proprio dado Per uccidere Più zombie possibili E poi sperare Di avere ancora Attivazioni Per andarsene In questo caso Lui Samson Che ha ucciso due zombie Non potrà andarsene Molto probabilmente Perché ha un'azione residua E avrebbe comunque Bisogno della seconda azione Per allontanarsi Dall'abominio Ma Gli altri potrebbero farlo Questo Per portare Altre tattiche All'interno del gioco Samson Riceverà una ferita La sua prima comunque Abilità è Che ha un tiro salvezza Al 6 Quindi potrebbe cercare Di ignorarla Creando una situazione Tattica e strategica Non indifferente In quanto gli altri Potrebbero andare E svolgere altri compiti All'interno della missione Una cosa di cui Non abbiamo ancora parlato Ma che è molto importante All'interno del gioco Io direi che è l'ultima Prima di lasciarci È La linea di vista La linea di vista È molto importante All'interno del gioco In quanto Indica Le varie attivazioni Che i vari personaggi Che i vari mostri Scusate Hanno All'interno del gioco E che permettono Quindi di gestire Il modo tattico E prevedere le azioni Future dei mostri Allora Escludendo Il necromante Che come detto È un personaggio Particolare Che non combatte Ma cerca Di andare Allo spawn Successivo Attraversando le porte I vari elementi scenici E Uscire dal campo E una volta uscito Non potrete più chiudere Il suo spawn Che ha generato Arrivando sul campo Di battaglia Gli altri mostri Cercheranno sempre Di ingaggiarvi Per menarvi In corpo a corpo La linea di vista Funziona All'interno del gioco A livello infinito Di conseguenza Un personaggio Con arco Che si trova A distanza X Da un avversario Può decidere Di tirarci contro A patto Di avere un'arma Che ha La distanza necessaria In questo caso L'arco colpisce A una distanza Quindi semplicemente In questa casella Non potrebbe colpire Ma il personaggio A linea di vista Questo cosa ci interessa Ci interessa Perché se il personaggio A linea di vista Anche gli zombiano A linea di vista Gli zombie Quando si attivano Muovono Verso il personaggio Più vicino A linea di vista In caso in cui Ci sia parità Di personaggi In questo caso La linea di vista È semplicemente Dritta E infinita Samson Non viene visto Quindi gli zombie Possono muovere E vanno in questa direzione Nel caso in cui Però Arrivi un altro turno E la posizione Sia sempre questa Gli zombie Essendo pari Si muoveranno Per andare In corpo a corpo Con entrambi Perché li vedono Entrambi In questo caso Nel caso in cui Avessimo bisogno di Avessimo una situazione Di disparità Gli zombie Andrebbero divisi In parti uguali Di conseguenza Due andrebbero da Samson Uno Andrebbe Da Dal nostro Elfetto Manca uno zombie Si aggiunge In questo caso Per semplicità Ho aggiunto un corritore E avrebbe aggiunto Un Un camminatore Ma È uno sdoppiamento Per far capire Che nell'orda Non si capisce Quanti zombie ci sono Quindi bisogna stare attenti A non farla dividere Come dicevo È molto importante All'interno del gioco L'ausilio In realtà Del suono L'ausilio del suono Vi impedisce Vi permette Scusate Di utilizzare Delle tattiche Un po' più particolari Di conseguenza Vediamo La 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 situazione di prima Noi muoviamo I nostri zombie Nel primo turno Che Si trovano al centro In questo caso Sono linea di vista Sia su samson Che sul nostro Elfetto Silas Come visto prima Dovrebbero dividersi Entrambi Sono linea di vista E entrambi Valgono come un suono A parità di linea di vista Gli zombie Andranno dove Sono presenti Più suoni Quindi se Silas Avesse aperto Questa porta Con il martello Facendo un suono Lo zombie Decide In automatico Che Questo non è più importante Perché Silas È un modello In linea di vista Con un suono Totale due suoni Qui abbiamo Un suono solo E un modello In linea di vista Gli zombie Andranno Tutti da samson La linea di vista Funziona in modo Molto differente In realtà Su I terreni All'interno degli edifici Scusate In quanto Un personaggio Che voglia attirare A distanza All'interno di un edificio Dovrà farlo Attraverso le stanze A prescindere Da quante stanze Ci sono La linea di vista È sempre limitata A una stanza Di distanza Quindi se Silas Avrebbe un'arma Che attacca A due di distanza Non potrebbe farlo Perché vedrebbe Soltanto Questa stanza qui Nonostante Le porte Siano Tra virgolette Una davanti all'altra E Nella vita reale Magari avresti Linea di vista Attraverso questa porta All'interno del gioco Non puoi superare Questa stanza In conseguenza Qui non hai linea di vista Ma qui Sì E potresti tirare Questo funziona Anche per gli zombie In quanto Non hanno linea di vista Finché Non arrivano In questa stanza Questo permetterebbe Facendo dei suoni Di allontanarli Un'altra regola Molto importante È quella In realtà Della priorità Di tiro La priorità Di tiro È una regola Fondamentale A livello Del combattimento E nella linea di vista Quando un personaggio Vuole tirare All'interno Di una casella Con attacchi da tiro Non in corpo a corpo Quindi soltanto Soltanto attacchi a distanza A meno di regole speciali È costretto A colpire I modelli Secondo un determinato Criterio Il criterio è dato Dalla dimensione Dei modelli E quanto è difficile Colpirli Di conseguenza Quando combattete A distanza Il primo modello Che colpirete Sempre È l'abominio Perché È un modello Enorme Il secondo modello Che colpirete Sempre È il ciccione Il grassone Perché Sono modelli Grossi Dietro cui Si possono Nascondere I camminatori I camminatori Sono i più Facili I più Difficili Da colpire Tra Quelli Di cui Ho nominato Perché Perché Sono piccoli E non sono così Ingombranti I più difficili In assoluto Quindi Quelli più ostici Sono i corridori Perché sono veloci E schivano i proiettili Questo vuol dire Che quando voi tirate Su una determinata casella Non potete tirare Effettivamente Se non avete Regole speciali Che vi fanno Scegliere i bersagli O se Non avete armi Che uccidono Quello che c'è Dentro quella casella Perché Fin canto Che c'è un abominio Dentro la casella Con altri zombie Non potrete tirare Perché non potete Uccidere l'abominio Perché la freccia Andrà a sbattere Direttamente Contro l'abominio E non gli farà niente La stessa cosa A scendere Con i grassoni Se non avete Un'arma che fa Due danni Non potrete tirarvi Perché Perché tanto Non li ucciderete E questi schermeranno Tutti quelli dentro Quindi bisogna essere Molto oculati Con quello che si fa La regola Della linea di vista E Del suono Sono molto importanti All'interno Quindi io vi consiglio Utilizzare sempre I vostri segnalini Per portarli avanti Al meglio E non perdervi Perché noi ci perdiamo Sempre con i nostri segnalini Numero rumore E perdiamo tutte le partite Perché il gioco Ci piace tantissimo Siamo degli esperti Fino a un certo punto Detto questo Io spero che Il tutorial Sia stato il più esaustivo Possibile Di avervi fatto capire Come funziona In linea di massima L'utilizzo Delle valle e regole Di Zombicide Ci sarebbe molto altro Di cui parlare Molte sottigliezze A livello logico A livello tattico Io lo trovo Un gioco molto interessante Zombicide Ed è veramente Uno dei miei giochi preferiti Poi nella sua versione fantasy Lo trovo incredibile Spero che il video Vi possa essere piaciuto Spero che questo Vi invoglierà A vedere E pensare Se fare Il crowfunding Del starter Del White Death In uscita il 5 aprile Da Mattia È tutto Da Wargames Per passione È tutto E spero di voler Portare E che voi siete interessati A nuovi contenuti Inerenti A Zombicide Perché Mi piacerebbe Effettivamente Magari Portare qualcosa Sul tavolo da gioco Tipo un report Di una partita E così Per farvela vedere Completa Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi Fatemi sapere Cosa ne pensate Tutto qua Nei commenti I link Tutto il resto Patreon Gruppi Sono sotto In descrizione Io vi voglio bene Un abbraccio E continuate a lanciare dadi Va bene? Da Mattia è tutto E da Wargames Per passione anche Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti